Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi volevo portare sul canale Fortnite Come sapete se mi seguite su Instagram mi chiamo così Porto sempre due video alla settimana sul canale Il sabato e la domenica alle 11 e mezza del mattino Oggi volevo portare Fortnite Lo ammetto non sono tanto brava a giocare Anzi faccio un po' schifo Se sto vivendo tipo 6 secondi tanto Però sono convinta che più gioco e più miglioro Quindi se volete aggiungermi tra gli amici di Epic Sono anti niscatutto minuscolo Direi sigla e iniziamo Cuffie alle orecchie Oggi abbiamo un nuovo amico con noi Nuovo mica tanto Però non c'è mai nel video Oggi è un po' coccolone perché gli ha fatto il bagnetto E lui non vuole mai fare il bagnetto Quindi è un po' coccolone E giocherà con noi a Fortnite Premi A per avviare Sono sempre anti niscatutto Battaglia reale Notizie nuove La stagione 6 è qui Esplorio misterioso e modifica la mappa Scopi segreti spaventosi Pass battaglia stagione 6 100 livelli Oltre 100 ricompense Sempre 950 Adesso ho 950 VBH Adesso con i piccoli amici Un tipo turbolente L'attrezzatura Età dell'aviazione Ora disponibile Ok Novità Nuovo set Ora disponibile Allora 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 Che modalità Scegliamo Singolo Coppie Squadre Anni 50 Palla Parco gioco Allora Io di solito Quando gioco da sola Faccio singolo O anni 50 Palla Siete pronti Ci siamo Scegliamo Un punto della mappa Dove andare Ok Vamonos Vamonos Se ne arrivo 3 57 Dopo Ora So già Che sarò Tipo Lontanissima Dalla Safe Scegliamo e lo sapevo che non c'era nessuno oh oh oplai andiamo a cercare armi andiamo a cercare armi andiamo a cercare armi andiamo a cercare armi Grazie a tutti. Quindi, niente, andiamocene. Carriamo veloci. Sto merendo. Non ho una pozione. Molto bene. Madonna che ansi. Ho paurissimo. Io ho sempre paurissimo di trovare qualcuno. E dai! Non fatevi entrare nelle stanze che ho paura. Munizioni. Fucile. Dai, raga. Mi serve una pozione, per favore. L'ho visto, raga. Stava correndo. Sono. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho paurissima. Sono tutti qua e io ho stra paura. Perché mi spavento quando arrivano. Solo che vorrei andarmene da qua. Però so già che ora mi beccano. E mi serve pure una opzione. Legno. A me serve una pozione. Dove cavolo la trovo una pozione? Ditemelo. Dove cavolo la trovo. Ma dai, io l'avevo visto e lui no. Va bene, come potete vedere, appena trovo qualcuno mi ammazza, non faccio super schifo. Però sono sicura che posso sempre migliorare. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi sui miei social che trovate a fine video o in descrizione. Io vi mando un grosso bacio. Grazie. 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 Grazie.